Allora, salve a tutti di nuovo, ci eravamo lasciati l'altra volta con l'introduzione che ho fatto a questa nuova playlist dedicata prettamente alla storia del neopaganesimo germanico, in cui però ho dovuto fare un'introduzione al neopaganesimo in generale, a cosa significa, per chi non si è visto il primo video, lo scorso video, è meglio se se lo guarda perché lì spiego alcuni concetti fondamentali, mentre in questo vado già avanti, diciamo, dando per scontato delle vostre conoscenze che se non le avete, diciamo, qui utilizzo delle parole che potrebbero confondere, insomma, chi non si occupa di quest'ambito. Quindi do per scontato molte cose perché in questo video volevo addentrarmi finalmente, insomma, alle origini del neopaganesimo di culto nordico, chiamiamolo così, poi vedremo, ci sono tanti nomi che potremmo impiegare per definirlo. Ora, l'altra volta, appunto, avevo cercato di spiegare alcuni termini, di chiarire il perché di questo, di questi interessi verso le antiche religioni europee, che sostanzialmente non è mai morto sin dal medioevo, e soprattutto il fatto che c'è una differenza fondamentale che dobbiamo tenere a mente, ossia i due piani, quello lì, diciamo, folcloristico, tradizionale e popolare, dove in sostanza non c'è una religione istituzionale, ma lì si sono conservate in modo, in un certo senso, spontaneo, tanti aspetti delle antiche religioni. Basta vedere, insomma, la maggior parte delle festività che ci sono in giro per i paesi europei sono sostanzialmente festività che derivano dai nostri antenati pre-cristiani, insomma, prima dell'arrivo del cristianesimo. Così come tante altre creature, storie, leggende, insomma, delle nostre campagne, montagne, isole, eccetera, eccetera. E questo però è, diciamo, un piano di cui non mi occupo adesso. Io mi occupo invece di quel piano in cui c'è una consapevolezza culturale in cui un gruppo di persone decide di far rivivere, o perlomeno praticare, una religione. Poi ognuno di voi avrà la propria idea di cosa significhi questa cosa qui. Però qui c'è una vera e propria, un tentativo, perlomeno, di ripresa di un certo tipo di fede, una ricostruzione, se vogliamo. Vediamo che, come accade tante volte, questa graduale ricostruzione che parte anche in modo, se vogliamo, inconsapevole, insomma, mescolata con quella che è la religione ufficiale d'Europa, cioè il cristianesimo, che più a piano diviene, tra 700 e 800, sempre più mirata e consapevole verso ciò che uno sta facendo e verso una fede alternativa a quella ufficiale, a quella dominante. Quindi, in sostanza, se dall'altra parte abbiamo appunto la tradizione popolare, da questa parte abbiamo un qualcosa che è rinato in ambienti non popolari, in ambienti aristocratici, eruditi, di gente che aveva i soldi per studiare, intellettuali, eccetera, eccetera. Infatti, andando adesso proprio a vedere le origini, soprattutto in Nord Europa, insomma, quindi dell'interesse verso le religioni dell'antico Nord Europa, vediamo che io seguo sempre appunto gli appunti che, come ho detto l'altro nello scorso video, sono quelli del... che presi nel corso di Neopaganesimo e Mitologia Nordica all'Università di Firenze, qualche anno fra, della professoressa Letizia Bezzosi, più la mia relazione che scrissi per quell'esame, quindi cerco di aiutarmi per ricordare tutte queste informazioni con questi scritti. Quindi possiamo mettere, prima di tutto, l'interesse da una parte verso il classicismo, che alla fin fine non è mai morto, però, insomma, nel Settecento con l'illuminismo era molto potente, quindi ovviamente una ripresa, voi pensate non solo agli illuministi, ma pensate anche a Hegel, insomma, la sua ammirazione verso l'antica società delle polis greche, per esempio, e quindi anche il loro rapporto con la religione, pensate a Jung, insomma, c'era una riflessione nel Settecento forte su cosa significava avere una società politeista e non monoteista e quali potevano essere i vantaggi, oltre che tutta la solita affascinazione verso quelle culture, quelle mitologie, eccetera, eccetera, dopo di questo, subito dopo, ma collegato, verrà lo Sturmund Drang, quindi soggetti tipo Herder, Goethe, eccetera, eccetera, che porranno le basi del futuro romanticismo, sceglieranno di recuperare non solo la tradizione mediterranea, che fino ad allora era stata quella principale, sostanzialmente quella che ammiravano tutti, quindi greci e romani, sostanzialmente, quindi quei panteon lì, quei miti lì, ma all'inizio del romanticismo si iniziava, le nazioni, eravamo all'inizio appunto anche dei nazionalismi europei, insomma, c'erano tutte le nazioni europee che dovevano fondarsi su qualcosa, quindi Germania, Inghilterra, Francia, eccetera, eccetera, avevano bisogno di trovare una loro storia delle origini, quindi c'era molto interesse verso la propria supposta storia, quindi i tedeschi, ad esempio, così, ma anche in Scandinavia, insomma, anche i danesi, i svedesi, eccetera, eccetera, iniziavano a recuperare non la tradizione mediterranea, ma la propria tradizione, voi pensate appunto ai Grimm, eccetera, eccetera, quindi trovare una mitologia tedesca e questo significava andare a cercare nella storia quale poteva essere l'epica e le storie, le saghe, eccetera, eccetera, e così è stato, quindi per fondare una storia della nazione si andavano a recuperare gli antichi canti tradizionali, poemi, tutto ciò che riuscivano a recuperare, che appartenessero appunto alla tradizione germanica. e questo accadeva in parte anche nel mondo britannico, cioè in Francia, per tutto quello che riguarda il mondo celtico, il cosiddetto celtismo, che è appunto una sorta di movimento di recupero della mitologia, di cui ciò che è rimasto della mitologia celtica e del druidismo, insomma, sin dal 1700 era davvero in fermento. Quindi c'è tanta riflessione, poi ovviamente, come ho detto l'altra volta, siamo nel 1800, alla fine del 1800, c'è un'enorme epoca di sincretismo, insomma, gli europei erano ovunque nel mondo, quindi da ogni parte, sia dall'estremo oriente, dal medio oriente, eccetera, eccetera, arrivavano dall'India, si iniziava, voi pensate a Schopenhauer, che leggeva le tradizioni religiose antichissime indiane, Iveda, eccetera, eccetera, quindi c'era molto più accesso a tutto ciò che non fosse europeo, questo creava appunto quel sincretismo che faceva mescolare in alcuni movimenti un po' esoterici, un po' occultisti, varie associazioni, la massoneria, insomma, questo lo vedremo anche più in là, che cercavano di ricreare una sorta di storia del mondo, anche dal punto di vista spirituale, questo ha contribuito, insomma, ad aumentare, insomma, gli studi verso anche le antiche religioni europee. infatti un passo che dobbiamo fare, che secondo me è obbligato, è anche fare un accenno, avere la consapevolezza che in sostanza il neopaganesimo più famoso, più importante, diffuso del mondo, in un certo senso il primo che è riuscito a trovare una propria codificazione è quello che gira intorno al mondo della cosiddetta stregoneria. Quindi, detto in altri termini, il genitore di tutti i neopaganesimi in un certo senso è la wicca. Quindi un accenno lo devo fare. Abbiamo infatti, negli anni tra, siamo sempre tra 800 e 900, un importante personaggio femminile, e ricordatevi, come ho detto nel primo video, anche il recupero dell'interesse che avevano le donne in recuperare tutta la storia della stregoneria, insomma, della spiritualità che fosse principalmente femminile. Questo ha dato un grande contributo, un grande contributo soprattutto, appunto, agli studi sulle streghe, eccetera, eccetera, e sulle divinità femminili. E questo c'è tanto nella wicca e nel mondo celtico in particolare, nel mondo britannico, e vedremo che la particolarità è che c'è meno, anche se arriverà dopo, ma all'inizio, nel mondo invece germanico, questo contributo femminile è inferiore. Questa sarà una prima grande differenza importante che avrà delle conseguenze. Abbiamo Margaret Murray, che era un'egittologa, un'archeologa e un'antropologa che lavorava lì dove c'erano le colonie inglesi o in Egitto, quindi, anche lì, l'egittologia, sempre in quegli anni, sin dal 1800, insomma, aveva fatto un boom, insomma, un boom di interesse, così, quindi, anche tutto ciò che girava dietro all'antica religione egiziana, stava influenzando tantissimo tutti questi circoli di intellettuali, in tutti i modi possibile. Quindi, questa Murray iniziò a interessarsi del culto delle streghe nell'Europa occidentale e scrisse anche un libro che si chiamava The God of the Witches, il dio delle streghe. Quindi, già un personaggio femminile che dà un forte boost, insomma, una forte spinta all'interesse verso gli antichi culti europei e, ovviamente, al recupero di un qualcosa che è sempre stato percepito come identitariamente molto femminile, come tutto ciò che gira intorno alla figura della strega. Quindi, il suo interesse si svolge all'analisi dei documenti relativi ai primi processi di stregoneria. sulle riviste di folklore, scrisse sulle riviste di folklore, insomma, si occupava di tutte queste cose che oggi noi, anche per sentito dire, abbiamo sono andate un po' a fondare il mito delle streghe, insomma, quindi l'adorazione di Diana, il loro particolare, voi pensate alle streghe di Benevento, insomma, il loro particolare rapporto con la Dea Diana, i supposti incontri per il Sabbat, le congreghe di circa 13 membri di cui il capo era di solito un uomo, eccetera, eccetera, questo è quello di cui si occupava lei, quindi qui abbiamo all'inizio del Novecento abbiamo già un'origine anche in un certo senso del cliché che abbiamo delle streghe. Poi si occupa anche del cosiddetto Dio Cornuto che è una divinità principale, secondo lei, del culto che avevano queste streghe che è associato insomma agli animali selvatici, bosche, la caccia, la virilità maschile, la sessualità e queste streghe erano in sostanza delle seguaci, insomma, non erano adoratrici del demonio come pensava la chiesa, ma erano delle seguaci divinatrici, maghe, donne della pioggia, quindi tenevano molto ovviamente la conoscenza astrologica del ciclo del calendario, la fertilità, ovviamente agli spiriti. Ci possiamo immaginare ovviamente che questo dio cornuto insomma derivasse insomma soprattutto da ci sono tantissimi in parte del folclore ma anche il famoso Cernunnos celtico insomma è un po' alla base di questo supposto dio delle streghe di cui parla la Mary. altro personaggio importantissimo per questo mondo della stregoneria fu il cosiddetto no il cosiddetto insomma il suo nome era Gerald Gardner che sicuramente molti di voi già conoscono perché fu lui in sostanza il fondatore possiamo dire della wicca scrive insomma era uno scrittore saggista sacerdote britannico della wicca visse in oriente insomma era ovviamente sempre non era un poveraccio quindi insomma visse in varie parti dell'impero britannico e come tanti personaggi del genere era un membro della massoneria vicino al cosiddetto rosa crucianesimo che non mi chiedete che cos'è perché io non ho mai approfondito questa cosa qui però insomma comunque circoli della massoneria un po' particolari ordo templi orientis esoterismo occidentale ermetismo il die on fortune o occultismo è vicino anche all'occultismo di quello che abbiamo detto l'altra volta ossia Crowley quindi un personaggio del genere vedete questo questo va tenuto a mente per vedere per capire qual è appunto il magma da cui viene fuori l'interesse insomma verso gli antichi culti europei nel 1938 si trasferì nella regione della New Forest nel sud dell'Inghilterra e lì venne fondato il New Forest Coven i Covens sono ovviamente una della Wicca lo potrà spiegar meglio magari spiegatelo meglio anche qui nei commenti però i Covens sono in un certo senso dei i gruppi i gruppi delle streghe sostanzialmente delle streghe della della Wicca quindi lui è importante perché appunto fu il fondatore del di questa Wicca quindi in un certo senso teorizzò cosa cosa in questa scuola di streghe e di stregoni si deve fare insomma per portare avanti e praticare questo tipo di culto quindi ricordatevi il nome di Gerald Gardner fondamentale insomma per la storia del neopaganesimo europeo altri nomi importanti che possiamo menzionare insomma possono essere quelli di Doreen Valiente che è chiamata anche The Mother of Wicca la madre della Wicca oppure Alex Sanders che è detto il re della Wicca ma ora non vi sto a fare una storia della Wicca però insomma qui vediamo che soprattutto nel mondo anglosassone e britannico è molto vivo questo interesse verso la magia qui si parla soprattutto di magia paganesimo ma legato magia esoterismo eccetera eccetera quindi dove dobbiamo andare perché qui siamo nel mondo britannico per ritrovare invece un interesse perché è qui appunto l'accento è posto più se ci fate caso verso il mondo celtico non tanto il mondo germanico abbiamo parlato prima di cernunnos anche di diana insomma però effettivamente i britannici hanno percepivano molto di più l'affascinazione come è ancora oggi in effetti il druidismo il druidismo contemporaneo è fortissimo nelle isole britanniche quindi l'attrazione verso le tradizioni celtiche piuttosto che germaniche anche se anche se gli anglosassoni comunque sono di stirpe germanica però così è andata quindi dove dobbiamo andare ditemi voi un posto per trovare una nazione interessata invece principalmente e puramente alle tradizioni germaniche ovviamente in Germania e nello stesso momento laddove appunto nel mondo anglosassone era effervescente questo interesse per streghe per le antiche divinità celtiche nello stesso momento la Germania a partire già ovviamente come si è detto prima dal romanticismo cercava di trovare una propria storia spirituale che forse storia legata proprio al sangue tedesco dei loro antenati quindi che non fosse che non fosse ovviamente né quella giudaico-cristiana ma neanche troppo legata ovviamente a tradizioni che sono in sostanza mediterranea quindi greco-latine quindi ovviamente ci fu un enorme interesse come ci fu stato verso tutto ciò che aveva scritto Tacito sugli antichi germani i romantici questo lo ripresero tantissimo insomma sulla Germania cioè l'opera scritta da Tacito che era lo storico romano del primo secolo dopo Cristo fu scritto di tutto insomma anche in modo molto approssimativo insomma ovviamente lo scritto di Tacito si prestava un po' alla malinterpretazione ma c'era c'era comunque un fine anche politico per far sembrare gli antenati dei tedeschi e farli apparire in un certo modo che poi diciamo avrà il suo massimo ai tempi del nazismo quindi il de origine et situ germanorum di Tacito che appunto questo Tacito lo faceva più che altro per criticare i romani del proprio tempo paragonandoli a un popolo fiero e ancora legato alle tradizioni originali alle proprie tradizioni come erano invece i germani e diceva guarda in sostanza come succede sempre nella storia delle società complesse c'è l'intellettuale lo scrittore che dice guarda questo popolo com'è ancora puro rispettoso insomma di se stesso e moderato laddove invece noi facciamo iniziamo a fare schifo abbiamo dimenticato ci siamo rammolliti abbiamo dimenticato il nostro vigore iniziale il nostro onore il nostro legame con con le divinità con le tradizioni puramente romane eccetera eccetera e questo era il suo messaggio ovviamente non c'era un messaggio razziale come si poteva intendere noi ma ovviamente nell'ottocento è stato letto in questo modo perché appunto diceva che i germani avevano delle qualità che i romani non avevano più e quindi qualità fisiche morali e tutto questo potete immaginarvi come è stato interpretato dai tedeschi dell'ottocento come una sorta di razza superiore aborigini ovviamente ci sono ora vi volevo parlare delle parole perché voi pensate che sia che sia semplice ma non lo è perché in realtà anche le parole sono un po' soggettive di solito è quello da cui parto all'inizio ossia i termini come diceva Wittgenstein insomma sono i termini che in un certo senso disegnano lo stesso mondo un mondo di significati che abbiamo tutto intorno a noi quindi in effetti uno dovrebbe sempre andare prima di tutto all'origine del termine che uno sta usando scarnificarlo il più possibile e cercare di trovare il significato originale di quel di quell'emma in effetti l'incertezza che abbiamo verso queste verso questo argomento è anche dato dallo stesso termine l'altra volta vi ho detto che cosa significa pagano ma pagano non è l'unico termine che usiamo in effetti questo fin dall'inizio questi neopagani di culto nordico si sono chiamati in vari modi abbiamo odinismo abbiamo asatru abbiamo etenismo tutti questi termini poi in più generale c'è anche il termine gentile ma quello di gentile è un termine che poi magari vi spiegherò ma che riguarda tutti i pagani non solo quelli diciamo di culto germanico però la parola odinismo viene da odino quindi ci sono stati alcuni gruppi che vedremo che si sono basati soprattutto su un culto di quella specifica divinità asatru asatru è legato alla lingua islandese che in sostanza potrebbe dire fedeli agli esir quindi asatru fedeli asa agli esir quindi in un certo senso in islanda se io sono un asatru sono colui che è ancora fedele agli antichi dei l'altra parola che invece preferisco usare più di tutte per definire in generale il neopaganismo germanico è etenismo che non mi dispiace etenismo è simile alla parola pagano però viene dal dall'uso in lingua inglese di di heathen della parola heathen o in tedesco heiden o heithnu che in sostanza vuol dire disegnava appunto genericamente i pagani ma col tempo l'ethenismo è diventato sinonimo di di colore appunto che riprendevano le religioni del nord d'Europa religioni soprattutto germaniche quindi etenismo può essere secondo me una buona parola per definire in modo generale il neopaganesimo germanico quindi ricordatelo etenismo adesso torniamo dopo aver spiegato un po' la terminologia così che la posso usare più disinvoltamente andiamo a vedere che ovviamente come vi ho detto in sia in non solo in Germania ma anche in tutta la Scandinavia insomma c'è il nazionalismo è in fermento quindi anche i norvegesi i svedesi insomma cercano di capire chi sono quindi cercano di andare alle loro origini e comunque loro hanno cose a cui attingere c'è tutta la tradizione che in realtà è tradizione soprattutto islandese perché in Norvegia Svezia Danimarca è strano ma si è conservato pochissimo delle antiche saghe quindi ciò che abbiamo della tradizione che noi chiamiamo di tradizione norrena in realtà praticamente viene tutto da quell'isoletta no non è piccola però insomma da quell'isola lì che riguarda ovviamente tutto il mondo scandinavo ma è stato praticamente messo per iscritto e conservato là poi dopo col tempo nel rinascimento è stato siccome l'islanda divenne prima colonia della Norvegia poi della Danimarca eccetera eccetera allora tutti questi manoscritti furono portati nel continente e quindi in un certo senso tutti tutti gli scandinavi se ne sono appropriati a livello identitario e quindi recuperano come hanno fatto come hanno fatto anche in Germania insomma tutti gli scritti degli antichi i giordani la storia della storia dei goti eccetera eccetera abbiamo anche il padre della runologia un certo Ioannes Bureus Bureus non so come si legge che addirittura identificava l'antico continente perduto di Iperborea con la Svezia e questo ricordatevelo perché quando ci sono alcuni movimenti strani particolari insomma che parlano sempre di questo Iperborea Iperborea qui insomma sono lande leggendari insomma da cui dovrebbero derivare appunto tutti una sorta appunto di razza in sostanza una razza legata a questa religione abbiamo Laus Rudbeck eccetera eccetera tutto questo si mescola ora ve lo faccio proprio breve però scorrendo tanti secoli come alzò il goticismo occultismo rosa crocianismo quindi abbiamo Ole Vorn il filologo danese precursore degli studi di archeologia in Scandinavia studioso dell'alfabeto l'unico il recupero graduale ovviamente tutto tutto il canzoniere eddico il famoso la famosa le due edda che praticamente dicono dicono insomma la maggior parte raccontano la maggior parte delle cose di cui sappiamo sulla religione non rena e abbiamo parte il goticismo inglese e ora cerco di andare più veloce con Klaus von Zed di Termertens eccetera eccetera tanti altri nomi si ricrea quindi il mito germanico il pre il già menzionato Herder che fa che recupera anche lui la mitologia nordica insomma per in certo senso far ripartire far compiere il proprio destino al popolo tedesco questo concetto sarà recuperato anche da Hegel insomma c'era la Germania da unificare ancora non esisteva la nazione tedesca c'era ancora il sacro romano impero quindi faceva comodo ovviamente recuperare una sorta di destino di tutti i germani come vi ho detto i fratelli Grimm Jakob e Willem quindi il loro gigantesco lavoro di recupero di tutte le tradizioni le storie folcloriche delle campagne tedesche che in quel momento si stavano pian piano perdendo oltre che hanno scritto veramente tanto i Grimm soprattutto mi sembra Jakob dei libri giganteschi che sono dei patrimoni per chi studia per chi è interessato alla materia che anche se sono ormai diciamo un po' superati dal punto di vista storico filologico però contengono una marea di informazioni appunto su sulla mitologia del centro nord Europa come appunto la deutsche mitologie quindi abbiamo tizi tipo Willem Mannhard che si è occupato appunto di mitologia germanica l'immancabile Richard Wagner che comunque nel mondo della musica però ha contribuito anche lui alla fascinazione anche perché tutti lo amavano insomma tutti quanti da tutti i politici amavano Wagner alla fine dell'ottocento inizio del novecento siamo arrivati adesso alla Jahrhundertwende che in tedesco significa diciamo il passaggio di secolo quindi siamo proprio a cavallo tra ottocento il novecento e con tutti quei movimenti di cui vi ho detto prima quella temperie culturale molto particolare soprattutto a livello erudita abbiamo personaggi tipo Paul de Lagarde che si occupano ad esempio di c'è un grande bisogno di trovare qualcosa di alternativo al messaggio cristiano universalista che mal si confaceva ovviamente a a parlare di un popolo solo e del destino di un certo popolo questo si legava ricordatevi ovviamente anche a tutte quelle teorie sulla razza che a quell'epoca erano normalissime era difficile ovviamente oggi quasi tutti le rifiutiamo ma all'epoca erano una normalità insomma l'uomo bianco dominava il mondo sembrava il suo destino e c'erano passati tizi tipo De Gobineau all'inizio del 1800 era uno scrittore francese che già fece appunto una scala dell'ordine dell'ordine dovrebbe naturale tra le razze quindi c'era la razza bianca in cima ovviamente pian piano fino alla razza più inferiore come se la natura avesse un ordine di questo tipo Euston Stuart Chamberlain il quale scrisse le Grundlagen des 19 Jahrhunderts ossia i fondamenti lui si trasferì in Germania quindi conosceva il tedesco i fondamenti del XIX secolo in cui pose le basi praticamente delle teorie che poi avrebbero usato i nazisti 30 anni dopo in sostanza quindi i nazisti non avevano inventato assolutamente niente delle loro teorie sulla razza era già tutto stato scritto nell'ottocento quindi in Germania cosa stava succedendo succedeva c'era un po' un conflitto tra l'appartenenza comunque l'identità cristiana che era sempre forte ovviamente in Germania ma anche un bisogno di trovare qualcosa che fosse puramente tedesco quindi alcuni personaggi come addirittura un teologo luterano tipo Arthur Bonus varie case editrici e vari altri intellettuali ma anche come abbiamo visto religiosi cercavano di trovare una spiritualità che fosse puramente tedesca quindi all'inizio ci fu anche questo passaggio di mescolanza quindi non una sorta di nascita di rinascita di un paganesimo tedesco no quello ancora arriverà ma arriverà col tempo inizialmente fu una sorta come dicono di germanizzazione del cristianesimo una germanisierung des christentums perché appunto c'era bisogno di trovare di rimanere fedeli alla tradizione cristiana ma renderla in un certo senso tedeschizzarla così così che sia una tradizione appartenente solo al nostro popolo in un certo senso e siamo nella congerie del guglielminismo quindi abbiamo una deutsche Jugendbewegung quindi un movimento nascono alla fine dell'ottocento inizio novecento tantissimi movimenti giovanili tedeschi che nascono in reazione ai valori borghesi propongono l'amore per la natura quindi la vita nel selvaggio nei boschi nelle montagne insomma una cosa che ricorda molto la cultura romantica una una sorta di amore verso un vitalismo insomma piuttosto che come nel cristianesimo una sorta di attesa del dopo morte ma invece un recupero di un concetto di vivere la vita nel presente quindi un ritorno alla natura nudismo vegetarianesimo riforma sessuale talvolta addirittura pacifismo alimentazioni naturale che però poi si mescolavano ovviamente anche a una preservazione delle proprie purezze etniche e quindi anche razziali ovviamente tenete sempre a mente che nello stesso momento sempre nel mondo tedesco o germanofono c'erano personaggi appunto tipo un tale Theodore Royce insomma ricco industriale austriaco che fondò lordo templi orientis quindi sostanzialmente un ordine massonico abbiamo menzioniamo anche lui anche Carl Gustav Jung insomma che lui nella sua psicologia molto affascinante e particolare recupera anche delle o perlomeno teorizza l'esistenza di alcune strutture dell'inconscio legate anche alla propria appartenenza genetica quindi come se ogni in un certo senso ogni razza avesse delle proprie diciamo delle proprie forme inconce particolari di quella specifiche di quella razza ovviamente già menzionati tizi particolari come Alistair Crowley Madame Blavatsky eccetera eccetera tutti da tenere a mente vi scorro cerco di scorrere velocemente e legato appunto a tutto questo clima ovviamente fondamentale fu come ho detto prima i giovani i movimenti giovanili tedeschi ma non solo giovanili che tentavano recuperare una sorta di vita primitiva e primitivista crearono quello che poi era chiamato il Volkische Bewegung il movimento Volkisch talvolta lo usiamo ancora e questo sarà poi molto importante ai tempi del nazismo anche se non è la stessa cosa del nazismo ma comunque sopravvivrà perché in un certo senso è una sorta di diciamo rinnovamento culturale spirituale e raziale in cui il concetto di Volk quindi tutto ciò che appartiene al nostro popolo deve essere preservato celebrato e ovviamente rinnovato anno dopo anno chiaramente la conservazione di tutto ciò implica ovviamente il rifiuto di qualunque influenza esterna sia di tipo culturale sia di tipo razziale quindi questo già poneva le basi in Germania nel mondo tedesco di di una esclusività razziale insomma che teneva fuori tutto ciò che ovviamente poteva sporcare insomma e rendere impuro la nostra appartenenza genetica e culturale dopo la prima guerra mondiale abbiamo un altro diciamo evento o movimento importante quindi ancora ancora ovviamente Hitler è molto giovane quindi ancora diciamo Staffas è al lavoro ma non è ancora così famoso ma nello stesso momento abbiamo quella che gli storici chiamano la conservative revolution di Armin Mohler che in sostanza fu una reazione e rifiuto totale di tutto ciò che rappresentava la repubblica di Weimar la repubblica di Weimar per chi non lo sa è quello stato che fu fondato subito dopo che la Germania aveva perso la grande guerra e sarà quella repubblica ovviamente che cesserà di esistere nel momento in cui il partito nazista prenderà il potere nel 1933 e quindi questa rivoluzione conservativa una sorta di reazione a tutto ciò che rappresentava la Weimar borghese ovviamente era una celebrazione di tutto ciò che c'era stato prima quindi il prussianesimo quindi l'impero tedesco dell'ottocento ma anche una celebrazione del pangermanesimo in cui la nazione germanica che è più ampia della Germania stato che abbiamo anche oggi il pangermanesimo implica una sorta di unione di tutti i tedeschi questo altro concetto che sarà ripreso insomma il concetto della Großdeutschland che sarà ripreso dal partito nazista che quindi in un certo senso chiamare tutti i tedeschi verso la patria e ovviamente il pensiero volkisch quindi una ricerca di purezza della civiltà tedesca che doveva recuperare le tradizioni e la mentalità delle antiche popolazioni germaniche quindi siamo arrivati finalmente agli anni venti del novecento in Germania ricordatevi quindi questo soprattutto questa parola del movimento della mentalità folkisch che è fondamentale sarà fondamentale insomma per certi personaggi per fondare appunto quello che all'epoca sarà diciamo il primissimo i primissimi possiamo dire il primissimo etenismo i primissimi gruppi autoconsapevolmente eteni quindi di neopaganismo germanico che si sono mai sviluppati nella storia quindi abbiamo un'origine un po' se vogliamo oscura ora io mi fermo qui perché il video sta venendo lunghissimo ma comunque tutto quello che vi ho detto è importantissimo per collegare tutti i fili e la prossima volta ripartiremo da qui quindi ricordatevi ora siamo nel mondo germanofono tra Austria Germania Svizzera e abbiamo appunto questo insieme di movimenti culturali ovviamente soprattutto che partono soprattutto dall'alto e poi vanno verso il basso però a questo punto una buona parte del popolo comunque vede bene si trova bene ovviamente in in questo clima di recupero dell'identità tedesca e sarà proprio qui come ho detto un'origine un po' dunque un po' oscura dell'etenismo del neopaganesimo germanico rispetto appunto a un'origine diciamo abbastanza neutra di quello che era stato che è il neopaganesimo celtico e quindi le primissime organizzazioni associazioni neopagane legate al culto germanico nordico nel prossimo video ripartirò da qui dicendo i primi nomi e trovando appunto i primissimi gruppi che poi saranno la base vorranno le basi dell'etenismo che verrà anche nel dopoguerra quindi qui abbiamo proprio gli urgenitori insomma i i bisnonni del dell'etenismo contemporaneo non sono bisnonni di cui possiamo andare molto fieri però è giusto la storia è questa ed è giusto raccontarla al prossimo video grazie a tutti